La storia ha perdita d'occhio e rifiuti pneumatici, plastica, in mezzo all'acqua che dovrebbe essere incontaminata, invece c'è tutto questo, centinaia e centinaia di metri di pneumatici e rifiuti. Per favore capire l'antese di questa strada, guardate questa macchina aerea, per riscattare, sostendente dall'altra parte dell'autostrada, tonnellate e tonnellate di rifiuti appandolati, fuori, pernici, sorrenti, cosa è capace di fare l'uomo? Guardate, potrebbe essere un'aria verde bellissima e abbiamo trasformato in una penone di scarica a misi. Ma dove sta succedendo? Sì, sono stato ucciso. Oggi, ripro, sono stato ucciso.